Siamo a Brescia, capitale della cultura, alla pieve di Uragomella, dove abbiamo Dialoghi d'arte, una mostra, la presentazione di Logos, la presentazione di profili d'artista e appunto nella pubblicazione di Logos ho selezionato le opere, ma soprattutto la ricerca, il processo di Luigi Cei, il processo di ricerca di Luigi Cei. E con lui non finisce qua perché stiamo preparando appunto una mostra, un evento molto molto importante in autunno che riguarda la sua arte che è fatta di essenzialità, perché in un percorso molto articolato e molto lungo che è partito dal paesaggio il maestro è riuscito ad arrivare all'essenza dell'arte, cioè a codificare un qualche cosa che nella nostra percezione, nella nostra anima risulta immediatamente visibile. Quindi ora salutiamo con il maestro, coloro che ci vedono. Sì, grazie, grazie Gianmarco. Hai perfettamente descritto la mia opera e la mia ricerca che dura da anni fino ad arrivare a questa essenzialità. Grazie ancora. E seguite Luigi Cei, seguite Brescia Capitale della Cultura e soprattutto il prossimo progetto che sto facendo con il maestro, con la sua arte in autunno.